Il problema di Beppe di Cristina è che lui è come le bestie, pisce appena gli scappa di pisciare. Anche questa storia di ammazzare Madonia, lui ne doveva parlare in commissione prima. A Totò è occulto, tutto ci vuoi dire, aveva un malo carattere, è pieno di difetti, ma una cosa bisogna riconoscerla. Lui non fa mai quello che vorrebbe fare, lui fa solo quello che si deve fare.